Le aziende più illuminate hanno capito che le differenze etniche nel loro organico sono un vantaggio, non un handicap, aiutano a vedere e risolvere i problemi da più punti di vista. Hanno anche recepito, credo, il vantaggio della reciprocità, un modello di business più collaborativo che competitivo. Conviene a me, conviene a te.